Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo proprio dal lato più importante, il discusso in queste ultime sedute in Palazzo del Pegaso, ovvero il rendiconto dell'anno 2021 per quanto riguarda l'esercizio finanziario della Regione. E a questo proposito la discussione è stata accesa in aula, ma è arrivato l'ok a maggioranza alla provvedimento. E' stato approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 della Regione Toscana. A illustrarlo all'aula del Consiglio regionale è stato il vicepresidente della Commissione Controllo Andrea Pieroni, che ha ricordato il prezioso contributo fornito dalla Corte dei Conti, nella ruolo non solo di mero controllo, ma anche di ausilio tecnico, prodigo di raccomandazioni e di rilievi critici, sempre nell'ottica del dialogo costruttivo. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi, rispetto ad alcuni valori, sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo. c'è una tendenza anche al recupero delle vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica, ormai dal 2013, questa regione non ha più aumentato tasse imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione è prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. Le previsioni definitive hanno determinato entrate e uscite pari a oltre 17 miliardi e 527 milioni di euro per effetto delle previsioni iniziali stimate in più di 15 miliardi e 404 milioni e di variazioni successive per più di 2 miliardi. Al termine dell'esercizio finanziario 2021 è risultato un saldo positivo di poco più di 346 milioni che, a fronte di un avanzo vincolato di 1 miliardo e 872 milioni, determina un disavanzo di amministrazione nell'ordine di 1 miliardo e 526 milioni di euro, da evidenziare come progressivamente dal 2019 al 2021 il disavanzo si sia ridotto passando da quasi 2 miliardi a 1 miliardo e mezzo. Riguardo ai rilievi assunti dalla Corte dei Conti si è evidenziato che meritano approfondimenti l'invernità degli organi di staff delle strutture politiche di Giunta e Consiglio. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una Regione che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale e credo che la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un dublice occhi, fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra Regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione quella di settembre dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Ma molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità di giocare a una partita nuova dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi fondamentale e poi c'è, credo, bisogno di una necessità, un equilibrio, di tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie ma che credo che in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello, uno standard alto dei propri servizi e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra Regione. Il Presidente della Commissione Controllo, Alessandro Capecchi, ha invece puntato l'attenzione su alcune riflessioni dal sistema della contrazione dei mutui, quindi dalle criticità in sanità, nel rapporto tra Regione e Asla, alla questione delle società partecipate, nonché alla sospensione di giudizio della Corte sui capitoli di spesa riguardanti gli emolumenti dal personale di supporto degli organi politici di Giunta e Consiglio. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto. In Italia ha oltre un miliardo e mezzo di disavanzo ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario in realtà trattiene i soldi, costringendo le asle o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. La questione del personale è una questione delicata, la Corte dei Conti contesta l'applicazione di un'indennità che in realtà non sarebbe ricompresa nel perimetro della legge nazionale cui secondo la Corte dei Conti compete in via esclusiva la normativa relativa ai pubblici dipendenti per la verità secondo noi c'è un equivoco di fondo perché il personale dipendente degli organi politici svolge ben oltre i propri orari di lavori con rapporti di fiducia molto stretta i propri compiti e quindi dovremmo trovare, dovranno trovare gli uffici della regione le norme utili a superare l'eccezione della Corte dei Conti. Sì, siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate i costi della sanità, i derivati la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi vero è che il disavanzo sostanziale sta calando ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati anche e soprattutto per il sistema delle partecipate noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia ma in realtà non è così neppure per la regione toscana anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipati e noi tutto questo dobbiamo evitarlo così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale ed è per questo che è necessaria una attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente come ho detto in aula è la sola che sostanzialmente rimane visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo di molte mozioni che vengono approvate dall'Aula quindi per noi stessi come consiglieri di opposizione le margini di azioni sono veramente limitate in questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della regione toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti e quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera come più volte abbiamo detto disordinata e delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati di generale della sanità perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati detto questo anche gli ospedali sono in gravi criticità pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire le criticità del caldo fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere e dopo quest'ampio capitolo dedicato al rendiconto finanziario per l'esercizio 2021 in Consiglio regionale ci occupiamo della memoria di David Sassoli il fiorentino ex presidente del Parlamento europeo a cui è stato intitolato il Media Center del Consiglio regionale è stato intitolato a David Sassoli il presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio scorso il nuovo Media Center del Consiglio regionale della Toscana non si tratta del primo maggio della nostra regione all'ex giornalista e politico toscano nato a Firenze le sue parole, il suo monica sulla necessità di un'Europa forte e unica sono state spesso prese come esercizio dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista ad un grande uomo delle istituzioni ad un grande politico e dedicare il nuovo Media Center il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e cittadine della Toscana è secondo me un modo bello è importante per sottolineare anche i valori dell'Europa la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro e allora insieme alla Commissione Europa insieme al lavoro del Presidente Gazzetti abbiamo messo a disposizione tre borse di studio per premiare i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa una giornata bella, una giornata emozionante una giornata che segnerà un pezzo di storia alla nostra regione Ringraziamenti per il Media Center sono arrivati dalla moglie di Sassoli Alessandra Vittorini che attraverso una lettera inviata a Mazzeo si è detta profondamente onorata di questo importante riconoscimento è una giornata dove si contrastano diversi anche sentimenti perché chi ha visto anche il video introduttivo si è emozionato io mi sono emozionato non mi vergogno a dirlo e soprattutto a evidenziare il legame forte che c'era con David ma non soltanto come uomo politico io come voi sono un giornalista e quindi David ha rappresentato una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani come si suol dire per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fatti che accadevano nelle nostre comunità poi ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni è arrivato al vertice delle istituzioni europee facendo il presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee quindi è una persona che francamente ha fatto molto molto bene in tanti passaggi e con questo è davvero tutto la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana sempre su RTV 38 grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti